Il film Joker di Todd Phillips è il primo film sul Joker come protagonista e non come antagonista E ci racconta le origini psicologiche più verosimili dell'iconico personaggio della DC Comics Prendendo liberamente spunto dalla graphic novel The Killing Joke Arthur Fleck, questo il nome di questo Joker, ha avuto una brutta giornata Ma in realtà non è solo così Arthur Fleck ha avuto una lunga serie di brutte giornate Da che se ne ricordi, da quando è vivo Infatti, cosa che non mi aspettavo all'inizio del film Arthur Fleck è già un uomo a pezzi quando la storia comincia Ed è un uomo spezzato da un disturbo mentale, psicologico o neurologico Che già lo porta a isolarsi o quantomeno a essere isolato dal mondo circostante Come se non bastasse, il mondo circostante è Gotham Una Gotham City mai stata così cattiva, mai stata così stronza e meno ferghista E anche una Gotham City classista, dove le lotte di classe sono a un passo dallo scoppiare La miccia c'è già Manca solo la scintilla Questa società tratta Arthur, che sembra l'ultima persona gentile rimasta a Gotham City Come spazzatura Quando va bene O altrimenti lo ignora O altrimenti addirittura lo deride O lo picchia, lo malmena Non tanto perché è strano Perché ha questo disturbo Che può anche portare a pensare una persona che si stia prendendo gioco di noi Quanto perché è gentile e non si ribella E come nella società reale c'è spesso capitato di vedere che chi è gentile e non si ribella Viene trattato come un pezzo di merda L'inizio sembra quasi una versione discorsese o di Stanley Kubrick di The Musk Dove c'è questo Stanley Hipkiss represso e buono con tutti Che viene trattato a pesce in faccia Infatti il problema più grosso di Arthur Oltre appunto a questo disturbo che lo porta a avere un comportamento simile a chi ha la sindrome di Tourette Nei confronti del mondo circostante E anche questo senso di essere totalmente ignorato Questo senso di sentirsi invisibile Più che invisibile si sente inesistente Si sente di non esistere Come avevo intuito dal trailer C'è una figura femminile molto preponderante nella vita di Arthur Che è la figura materna Che è sua madre Che è una figura quasi ingombrante Non volutamente, non consciamente Quindi non è una madre chioccia di per sé Ma fondamentalmente è comunque una presenza troppo preminente per un uomo adulto Vivono assieme Lui è l'uomo di casa, si occupa di lei Ma lei comunque lo ha sempre trattato Non dico come un bambino però È ancora molto materna nei suoi confronti Lui cerca quantomeno di avere un rapporto adulto con lei Ed è sua madre che gli ha sempre insegnato Di mettere un sorriso sul suo volto E di portare gioia e felicità alla gente Cosa in cui purtroppo è un fallimento Perché questa sua timidezza Se vogliamo chiamarla Questo suo alienarsi dalla società Oltre a questo disturbo che lo porta Ha risa incontrollate Quando è sotto pressione O quando è sotto stress Chiaramente non lo fa essere un buon comico Lui vorrebbe essere uno stand up comedy di successo E chiaramente non ci riesce Non ci può riuscire Sia ben chiaro Nonostante sia gentile Arthur è comunque molto lontano da essere una brava persona Come ho detto è estraniato dalla società Ed è gentile perché sua madre gli ha insegnato ad essere sempre gentile Ma sta covando dentro una rabbia Che prima o poi esploderà Prima o poi questo tappo salterà La cosa bella di questo film è che questo tappo in realtà non salta Così Salta lentamente Come se ci fossero tante carene In una nave che lentamente affonda Arthur è vittima sì Di questa società Ma è anche molto vittimista È forse il joker più vittimistico Che hanno portato su questo grande schermo Perché lo vediamo anche quando è nel pieno Della sua jokeritudine Come sotto stia covando una sorta di rivalsa Su quello che la vita gli abbia fatto Infatti come tutte le vittime Non appena gli viene passato sotto banco Un minimo bagliore di potere Di quello che può essere rappresentato come potere Che sappiamo ben tutti Nella società americana è spesso rappresentato da una pistola Non appena gli viene data una pistola Lui inizia a scatenare questo potere Inizia a ribellarsi Inizia questa sua lenta discesa Da quello che era Arthur E quello che sarà Arthur Ovvero il joker Come quando un bullo Tratta male per una volta di troppo Un timido Che non ne può più Questo timido può capitare Che si ribelli In modo fin troppo In modo quasi eccessivo E Arthur risponde a delle percosse Con il suo primo omicidio Scopre con il suo primo omicidio Che la cosa gli piace Che non gli dà rimorso Che lo fa sentire bene Che non lo fa sentire più vittima Questo suo primo ancora timido atto di ribellione Lo porta a scoprire una nuova versione di se stesso Non è ancora il joker È una specie di proto-joker È un qualcosa che lo porterà a essere La versione finale di se stesso Quella che vedremo alla fine del film Ma non è tanto l'atto di ribellione in sé Che lo fa stare bene Ma è proprio l'omicidio Perché si accorge Di come la vita sia una barzelletta Lui nel film Dice anche nel trailer Anche se nel trailer si intende quasi un significato diverso Lui dice Ho sempre visto la mia vita Come se fosse una tragedia Ora mi rendo conto Che è una commedia Ma non lo dice in senso molto positivo nel film Sembra che intenda Anzi intende proprio Che la sua vita è sempre stata Una cazzo di barzelletta E lui era la barzelletta Lui è sempre stato la barzelletta Di qualcun altro Della società E lui è stanco È proprio stanco Di essere la barzelletta di qualcun altro Finalmente lui vuole essere Colui che la barzelletta la fa Lui vuole essere The Joker Questo film dà anche un messaggio molto importante Un messaggio sbagliato ovviamente Ma che è lo specchio della società di oggi E cioè di come Finché tu sei buono E te ne stai al tuo posto Nessuno ti considera Nessuno ti guarda E se ti devono trattare Ti trattano male Quando inizi a essere Una figura fortemente negativa Come quello che è diventato Il Joker Alla fine del film La gente inizia a idolatrarti Inizia a fare di te Una figura da seguire Vediamo anche nella società attuale Come questa cosa succeda Come una ragazzina che si occupa dell'ambiente Viene presa in giro dagli adulti E come vari cantanti O comunque persone che parlano di cose negative Di droga, di armi Di trattare male gli altri Come vengano invece idolatrati Dalle folle, dai ragazzini E questo succede in questo film Come ho detto all'inizio È la prima volta che vediamo il Joker In un film da protagonista E il film è visto tutto dal suo punto di vista E dato che il personaggio del Joker Ha sempre rubato la scena a Batman Per il carisma e per il fascino malato Che ha sempre portato con sé Ci si aspetta che in questo film Si empatizzi ancora di più per lui Invece la faccenda è così reale È così realistica Così verosimile Quanto meno Che quando Arthur si trasforma lentamente Nel Joker La cosa ci fa stare male Lo spettatore normale Sanno di mente Quando vede il percorso Che sta intraprendendo Nonostante tutto quello Che abbia subito nella vita Non giustifica comunque le sue azioni Sono così crude Così reali Che danno una sensazione di fastidio Ed è giusto così Perché è questo che ci deve trasmettere Un film del genere Ci deve trasmettere un senso di disagio Il disagio che ha provato Arthur per tutta la vita Le persone malate in questo modo Quando fanno determinate azioni Esteriorizzano il disagio Che loro hanno provato fino ad ora Parliamo però anche della prova d'attore Di Joaquin Phoenix Joaquin Phoenix Ha fatto un lavoro meraviglioso Sul personaggio Magistrale Gli ha dato una fisicità unica Spettacolare Si parte dalla risata Isterica Impacciata Che ha all'inizio Come appunto Come disturbo mentale A questa sua camminata goffa A questo vestito color merda Che indossa A come lui salga le scale a fatica All'inizio del film A come si senta fuori posto Ovunque sia È sempre fuori posto Non si senta su agio Da che nasce anche questa risata isterica A come si immagini Come vorrebbe essere la sua vita E anche noi Con lui Siamo convinti che Forse la sua vita Sta prendendo Una piega migliore Invece è comunque Tutto nella sua testa A come mano a mano Invece Si senta più sicuro La camminata Non è più incurvita È più dritta Lui Ha questo Modo Di gestire La felicità Che si contrappone Alla sua risata Quando è sotto stress Lui ride Quando invece è tranquillo Quando è beato Quando si sente bene Lui danza Fa una danza lenta Come se fosse Un ballerino Di danza classica Alla rallentatore Lo vediamo Prima Quando è a casa sua Quindi nel suo guscio Nel suo rifugio Quando sua madre dorme Dopodiché Lo vediamo Quando ha appena commesso Il suo primo omicidio Quando ha appena commesso Il suo primo omicidio La prima cosa che fa Dopo essere scappato È chiudersi in un bagno E danzare Non ha riso Non ha fatto La sua risata isterica Ha danzato Che è quello che fa Quando è tranquillo Lo fa anche Prima di esibirsi Al Murray Franklin Show Lui danza Prima di entrare in scena E danza Iconicamente Perché questa scena Entrerà Nella storia del cinema Quando scende Dalla scala Quindi non sta più salendo Gobbo e triste Da questa scalinata Ma sta scendendo E sta ballando Sta finalmente Esercitando La sua libertà totale Da questa scalinata E questo percorso Questo percorso del personaggio Già da solo vale il film Al di là della trama Già solo vedere questo percorso È spettacolare È anche quasi paradossale Come Arthur Sembri molto più matto All'inizio del film Molto più estraniato dalla società Quando è Arthur Fleck Quando diventa Joker Sembra quasi che Riscopra In un certo senso Una sua sanità mentale Infatti Per chi ama i fumetti Per chi conosce il personaggio del Joker Il Joker è sempre stato definito Super sane Cioè più di sano Non è matto il Joker È più sano Delle persone sane E sembra proprio che Forse anche involontariamente Todd Phillips E il Joker in Phoenix Abbiano dato questo taglio Al personaggio In cui Nel momento in cui Arthur Fleck Si trasforma Lentamente Nel Joker Sembra quasi acquisire Una certa consapevolezza Di sé E una certa consapevolezza Di ciò che gli sta intorno E quindi Lo fa sembrare Anche agli occhi Dello spettatore Più sano Di quanto Di quanto non fosse all'inizio Mi è piaciuta molto Anche la crudezza Di certe scene Non pensavo nemmeno Di stupirmi In un film con il Joker A vedere schizzi di sangue Eppure mi sono reso conto Che in passato Non ne abbiamo visti Invece qui vengono Finalmente mostrati Nulla di Tarantiniano Per carità Ma comunque Scene molto vere Molto crude E anche questo In un certo senso Dà valore al film Come l'uso Della parolaccia Del turpiloquio È forse il Joker Che dice Più cazzo E più vaffanculo Rispetto agli altri Ma è normale Voglio dire Alla fine dei conti È un criminale E si parla così Quando si è arrabbiati Quando non se ne può più Se vi è piaciuto il video Iscrivetevi al canale Mettete un bel mi piace Attivate la campanella Delle notifiche E condividetelo Con tutte le persone Che hanno un disturbo mentale E io Prima di lasciarvi Vorrei raccontarvi Una barzelletta Toc toc Alla fine di notifiche Ah ah ah...